Un arresto per droga piuttosto movimentato ieri sera nel centro di Como. Un 27enne tunisino è finito in carcere mentre un poliziotto è finito in ospedale con una mano fratturata. Tutto inizia dall'attività degli equipaggi della polizia di Como che decidono di controllare gli avventori di un locale di via Milano. Un tunisino del 1988 alla vista degli agenti butta due stecchette di hashish dentro una lattina e cerca di staccare una targhetta da un mazzo di chiavi che indicava il suo indirizzo via 20 settembre. Gli agenti decidono così di controllare casa del sospettato il quale cerca di scappare scoppia una colluttazione nella quale un poliziotto resta ferito. All'interno dell'appartamento la polizia trova altre stecchette di hashish per un totale di poco più di 52 grammi. Il ragazzo viene arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato nel carcere del Bassone di Como. L'agente di polizia ferito durante la colluttazione, medicato all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia, ha invece una mano fratturata.